Il tratto di spiaggia di Pietrarsa è di nuovo balneabile. L'ARPAC Campania, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha pubblicato i dati sullo stato delle acque di balneazione. Dai primi rilievi dell'anno è emerso che la zona davanti al lungomare di San Giovanni a Teduccio è nuovamente balneabile. Questo successo viene sottolineato in una nota e è stato conseguito grazie a un lavoro intenso e sistematico del Comune e di ABC e che prosegue senza sosta. Per la prima volta infatti una spiaggia di Napoli Est diventa fruibile grazie a interventi sulle fogne in fase di realizzazione a San Giovanni e che stanno dando risultati concreti. Dal 2023 è stato possibile utilizzarle ai fini elioterapici, tranne piccole aree che sono state poi messe in sicurezza, informano dall'assessorato alle infrastrutture. Ora finalmente i primi riscontri. L'analisi testimonia la portata del progetto in corso in tema di depurazione per restituire ai cittadini spazi e risorse da tempo sottratti.